Signori, attenzione, state attenti quando parlano, capite? È una cosa molto importante. Da lunedì 9 gennaio, zigzag, la nostra trasmissione di giochi, andrà in onda alle 19.30. Alle sette e mezzo di sera. Sette e mezzo di sera, è giusto dirlo, perché non tutti... 19.30? Tutti i giorni, da lunedì al sabato, a casa vostra, su canale 5. 19.30!